Catena Fiorello, sorella del celebre presentatore comico Rosario Fiorello, affascinata da Modica. Non usa mezzi termini per esprimere tutto il proprio stupore davanti il Duomo di San Giorgio di Modica e la vista ozzafiato della Contea. Modica vista da qui è un gioiello. Modica vista da qui è un gioiello. Antonio sei rimasto senza parole? Eh sì. Eh sì eh. Non ci sono parole. Eh sì eh. Quanto richiama Matera? Da morire? Veramente. Quasi identica eh? Sì, la richiama tantissimo. Ragazzi la bellezza di Modica è spettacolare davvero, credetemi. E immaginate poi che la sera, tutto illuminato, è tutto un altro scenario a modi piccolo presepe. Catena Fiorello è stata ieri turista a Modica per la presentazione a Palazzo Grimaldi del suo ultimo libro. Tutte le volte che ho pianto, la presentazione è stata proceduta dall'introduzione dell'assessore alla cultura, Maria Monisteri. La stessa Fiorello, anche davanti Palazzo Grimaldi, poco prima della presentazione del libro, non ha potuto far altro che mettersi davanti lo storico e nobiliare Palazzo, uscire il telefono dalla tasca e riprendere tutto quanto. Ma ragazzi, ma ne vogliamo parlare dove presento il libro io stasera a Modica? Ma ne volemo parlare più davvero? Ma ciuzza che bello!